Eder Elizabeth Parisi nasce il 27 gennaio 1960 al Presbyrian Hospital di Hollywood, figlia di Anita Parisi, il cui padre Frank Parisi era originario di Terra Vecchia, Cosenza, e Norman Werby. I genitori si separano quando la bambina ha poco più di un anno ed Eder non vedrà più il padre. Fino al compimento del ventottesimo anno di età, i due riallacceranno i rapporti solo quando lei, divenuta celebre, lo inviterà in Italia per un ricongiungimento. Nonostante gli ostacoli, l'infanzia di Eder trascorre serena a Sacramento. In California, in compagnia di Tiffany, la sorellastra minore, nata dalla seconda unione della madre, a 13 anni si trasferisce a San Francisco mentre a 15 è a New York per studiare con l'American Ballet. Nel 1978 a 18 anni, dopo aver vinto due borse di studio la San Francisco Ballet American Ballet di Michail, Varysnikov, mentre si trovava in vacanza in Italia, prima in Sardegna e poi a Roma alla Parise e fu notata dal coreografo Franco Miseria che la presentò a Pippo Baudo, il provino pare non fu molto convenzionale. Per ricordo dello stesso Baudo, la Parisi improvvisò ballando sulla scrivania di un dirigente della Rai.